ma si vede? vado? si è già andato basta però fare... ma si vede? si 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 vede ciao ragazzi stiamo facendo sto video solo perché è una settimana che non carichiamo un cazzo esatto è perché io ho jr già evo nell'iphone ecco ciao lorenzo bonetti ma mi dimentico di metterli a gilby quindi porto questo che è provvisorio come mazzo a dobbiamo fare anche hot bobo devi fare hot poi poi facciamo anche tech profile hot oh gilby li devi caricare veloci sti video sennò ci mettiamo un mese scusa vabbè questo è trap tricks fist praticamente trap tricks ovunque non ci ho messo le mani perché non perché non ce l'ho che sia chiaro ma bensì perché sono già in prebanned quindi per non avere delusioni dico faccio così quindi non gioco fire fist hands gioco trap tricks fist per pipo ma sei crazy dai tutto rarizzato ovviamente sì iber rigorosamente super perché sbatto il cazzo è un bark uno solo teripa mirmelio lo carico io senza che me la lo tocca fosse un bestia mia doppia dionea doppia dionea dio negra un rayo e doppia carcardi rarizzata che errore è che io ho tutto rarizzato a parte i bear perché sono quelli che disgusti che disgusti poi tripla pod tutte rarizzate tutte rarizzatissime tripla tanky rarizzatissime triplo tifone dio tifone doppia forbida manch ami rarizzati tutti piacere tutti puisation siano in spents tifone uberbech sono disperata mornio erzzso disperate siano in spents fa où nourelation fa subtle dit pas ehi par approaching Poi Bottomlets con due Trap-Trip Trap-O Che sarebbe Tricero's Trap-O E un Trap-O Mono Blackhorn perché... Non ne ho No, adesso mi arrivano altri due però nel senso che non c'è slot Ci sta bene, ci sta bene Doppia Prison perché è amazing, lo sapete Doppia Break-Throw anche se vi piace giocare la Tremont non ho spazio Doppio Call perché è grossissimo con i Trap-Tricks e con... In particolare con Wolfberg E Triple Wire Trap perché c'è pieno di stronzi in giro che giocano le trappole tipo me Esatto Quindi questo era il Mainz E' stato a monte Sono disperato Sono disperato Sono disperato Cazzo faccio, extra Di due colori perché c'ho due mazzi misti Un Bear, un Kaguzuko L'amore Un Cardinal Un Cardinal Cento uno, ecci tonico, due la Ecci tonico Cowboy, maestro che è Blackship Il ragazzo Luca Emerald, direwolf, Ranzer 82, papillo operative, 85 Questo era Lex Finito il video Abbiamo già finito il record file Sì Facciamo una cazzata, chiudiamo Puoi fare il cazzo che vuoi Facciamo una cazzata Sì, facciamo una cazzata Siete saluto per il mail È arrivata l'estate e Gilby è nudo Beh, la G non è nudo Basta, chiudiamo che poi iniziamo a fare... Ciao amici Enjoy Enjoy the fresh now